Stefano Spada vederti con la maglia rossa azzurra forse è uno dei grandi obiettivi è stato della società Stefano Spada è della Domus Bet Catania Beat Soccer le prime sensazioni dopo quella che era il freddo comunicato ma poi è stata anche tanta partecipazione nella trattativa che poi ha portato al sì sicuramente le prime impressioni sono positivissime sono appena arrivato quindi è tutto un mondo nuovo da scoprire per me sicuramente questa nuova avventura mi porta a tanti nuovi stimoli che alla mia età sono abbastanza importanti direi quindi ti ripeto sono molto felice di questa scelta quindi penso che ci siano tutti i presupposti migliori per fare una grande cosa senti da numero uno qual è il primo ingrediente che non deve mai mancare all'inizio di una stagione sicuramente la mentalità secondo me a questo livello di questo sport la testa fa tanto e poi tutto il resto deve andare di conseguenza quindi sicuramente partire con tanto entusiasmo entusiasmo positivo e dopo di conseguenza tutto verrà diciamo molto più facile con la mentalità giusta mister panizza è la prima volta che lavori con lui se non erro da avversario com'era e come adesso sarà bello scoprirlo piano piano da tecnico ti racconto un aneddoto velocemente mi pare alla Champions due o tre anni fa proprio qui a Catania parlamo e gli dissi mister contro di te perdo sempre e quando ci siamo sentiti per parlare di questa nuova avventura ci siamo ricordati di questo aneddoto quindi ci eravamo lasciati a Catania ci ritroviamo qui a Catania con questo nuovo progetto ambizioso e sono sicuro che è un tecnico che porterà entusiasmo è molto preparato perché comunque nel mondo bici italiano è uno dei tecnici più preparati quindi ora sta a noi lavorare tranquilli fare tutte le cose giuste che servono per fare il massimo che è vincere ecco